Mille grazie ai portavoce, a Salvatore Piscillo, a Sergio Puglia, a tutti i candidati. E avete visto più ragazzi che sono ragazzi in gamba, preparati, competenti. Sono persone senza santi paradiso come noi, per cui se votiamo loro è come se votassimo noi stessi. Voglio dire un'ultima cosa, è importante, che sono cambiate le modalità di voto. Possiamo mettere tre preferenze accanto al simbolo, però la terza preferenza deve essere diversa dalle prime due attenzioni e viene annullata. Non spiegherò il senso senso, quindi abbiamo riassunto il concetto in maniera molto veloce. Siamo alla ricerca di Alcatore, a Salvatore, che adattano dei rappresentanti di Chissna per garantire la trasparenza. Ovunque, ciao, qua siamo Alcatore, per cui chiunque si è interessato può avvicinarsi ai ragazzi del Movimento, che abbiano una spilla alla peggiorina e lasciare il nominativo. e l'ultima cosa che voglio dire è che in primo luogo dobbiamo andare a votare per cambiare le cose e dare il nostro contributo. In secondo luogo dobbiamo votare con coscienza e in terzo luogo vinciamo noi. Grazie a tutti. Signori, facciamo un applauso a questa futura mamma che stasera si è prestata qui per noi. Grazie a voi, buona serata, a presto. Grazie a voi, buona serata, a presto.